Ogni volta che mi confronto con qualcuno negazionista mi fermo e gli spiego. Spiego loro com'è la situazione. Penso che tutti noi dovremmo farlo. Chi sta vivendo questa situazione dovrebbe farlo, perché questo se modifica anche il comportamento di poche persone è importante. È importante che tutti ci si renda conto. Le persone stanno soffrendo, noi stiamo facendo fronte a questa cosa, ma se non cambiano i comportamenti e i numeri crescono così, diventerà difficile farvi fronte in futuro. Quindi più che è quello che possiamo fare noi, è quello che possono fare le persone. Quindi tutti i negazionisti dovrebbero pensare bene a cosa vuol dire venire qui. Ci sono più di 100 pazienti, tutti noi siamo ritornati in guerra come soldati, lo facciamo perché è il nostro compito, però dateci una mano. Quindi pensateci e questa penso che sia la cosa più importante.